Ciao a tutti io sono Roxy e in questo video proverò di nuovo degli snack colombiani Roxy 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 Allora come vi ho detto nei video precedenti questi dolci snack sono del sito Columbia Candies Sono stati veramente gentilissimi con me quindi vi lascio tutte le info nella descrizione Ed ora iniziamo L'Onceritas Hanno quelle verdi, quelle gialle e quelle rosse e qua dice che sono dolcetti sempre di guava e zucchero Proviamoli Tadà Proviamo questo giallo prima va Un buono sa di guava, nel biscottino, ci piace Proviamo quello verde Mmm questo ha un sapore diverso ma se ci hanno messo un qualcosa un po' de menta penso e verde non lo so Questo non mi piace Proviamo quello rosso Questo mi piace E' come se l'avessero meschiato a della marmellata di fragola Mi piace questo buono Natucci Platano verde Quindi queste sono patatine di banana verde Va beh Tadà È perfetta questa È proprio una fetta de banana, lo vedete Mmm Mmm Queste sono buonissime Sono meno dolci delle Natup chips Quelle alla banana matura E quindi sono quasi salate Quindi mi piacciono un botto Mi piacciono Next Bon, bon, boom Passion fruit Quindi questo è tipo un lecca-lecca al passion fruit, mi sa TADAAAN Buono! Molto rinfrescante Si sa, di frutto alla passione Molto rinfrescante mi piace NEXT! Anisadas! Quindi queste sono caramelle all'anice, in teoria Vediamo un po' Tidu! Liquiziosi! Mi piacciono, sono buone, no? NEXT! Super iperacido! Questi si chiamano super iperacido, ragazzi Che paura Sono al passion fruit e alla fragola Provamo, provamo quel passion fruit MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Allora, intanto questa è una gomma Da masticare Detto ciò è asprissima Acidissima Terribilissima Sto a soffrì Però Se vi piace l'aspro Va bene Scusate, continuiamo a far così perché WUH WUH E' tutto qua! E' tutto qua! Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere nei commenti e cliccando sulla i Se conoscevate questi snacks E fatemi anche sapere se ci sono altri snacks Che vorreste che io provassi Io faccio un nuovo video ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica Seguendo questa programmazione E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Mettere mi piace Commentare Condividere il video con tutti i vostri amici E noi ci vediamo alla prossima! Ciao! MUAH! Arri ciao! Grazie per essere rimasti fino alla fine 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 Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet E vi mando un bacino E un virtual hug Se volete essere salutati Dovete mandarmi un tweet Se non avete tweet Basta che ve lo fate E' gratis E' facilissimo Se volete la maglietta, la felpa O il poster con il virtual hug Potete cliccare qui o nel link nella descrizione E se mi mandate una foto con il merchandise La metto qui Dico il vostro nome Vi saluto E sarete il Roxy Rocker della settimana Qui vi lascio altri due video E non dimenticatevi di iscrivervi Se non siete ancora iscritti Così potrete far parte di questo canale RoxyRoxTV Che è il canale più felice della Terra E noi ci vediamo alla prossima Ciao!